Il cambiamento e la sua accelerazione sono le ragioni per la quale ognuno di noi deve uscire sempre più spesso dalla sua comfort zone e adattarsi, modificare le proprie abitudini, cercare soluzioni a nuovi problemi. Come noi anche le imprese sono organismi che vengono attraversati continuamente dal cambiamento e come noi per sopravvivere e crescere, prosperare e riprodursi devono perlustrare in continuo il cambiamento in atto, cercare di comprenderlo, immaginare come affrontarlo, agire per non rimanere sopraffatte. Per spiegare il cambiamento possiamo usare la metafora del clima atmosferico. C'è un clima di alta quota che sta lassù, distante da noi, 8 chilometri, ma che influenza in continuo il tipo di clima di bassa quota che è quello che noi vediamo e cerchiamo di affrontare ogni giorno. Lassù, in alta quota, abbiamo principalmente tre drivers che condizionano la situazione. L'accelerazione del cambiamento climatico, l'accelerazione della globalizzazione delle persone, l'accelerazione tecnologico-digitale. Più vicino a noi, indipendentemente dall'occupazione e da dove viviamo, tutti i cambiamenti che percepiamo e che dobbiamo affrontare ogni giorno, sono frutto di questi condizionamenti di alta quota. Analogico e digitale, veloce e continuo, individuale e collettivo, privacy e trasparente, crescita illimitata e circolarità. Spazio e tempo, artificiale e organico, prodotto e processo, sono le parole chiave che si contrappongono nelle scelte che ognuno di noi e che ogni impresa sta cercando di affrontare ogni giorno. Grazie a tutti.